video di prova della beta 01 di dino fighter un picchiaduro ad incontri per mega drive ancora in fase di sviluppo questa beta 01 è proprio una versione iniziale si possono scegliere soltanto due personaggi fra quelli disponibili anche se nella schermata di selezione possiamo scegliere un personaggio diverso ma poi quando si incomincia a giocare soltanto quei due sono disponibili ci sono due scenari questo è un altro e praticamente è disponibile soltanto l'opzione per due giocatori vi posso dire che l'audio al momento non mi ha particolarmente impressionato la grafica ha uno strato di parallasse delle buone animazioni e una scelta di colori azzeccata però anche la grafica al momento non stupisce non posso dirvi altro perché non si può giocare contro l'intelligenza artificiale del videogioco c'è un'ottima rilevazione delle collisioni almeno in questa beta se volete scaricarlo vi metto due link a due video youtube uno è di sergio giogos mega drive non so se si pronuncia così comunque nel suo video andate in descrizione e c'è il link per scaricare soltanto questa demo l'altro link è un video di game dev boss e lì in descrizione trovate un link per scaricare diverse demo tra cui anche questa grazie per la visione se il video vi è piaciuto vi chiedo un like e un iscrizione al mio canale iscrizione al mio canale iscrizione al mio canale